I garabinieri della compagnia di Carini hanno tratto in arresto due uomini di 40 e 28 anni già noti alle forze dell'ordine con l'accusa di furto aggravato. I militari, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso un'abitazione privata dove hanno colto in flagranza di reato gli indagati trovati in possesso di 10 metri di tubature di rame. I due infatti avevano asportato le condutture dalle grondaie condominiali poco prima di essere sorpresi dai carabinieri. Quanto rinvenuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo.